centro revisione di service stop service auto da Tonino in Giappone ora siamo dopo figli aspettate e poi siamo a trovare dopo figli con Nicole Nicole sai da sapere che non solo ha una batteria che è una bellezza per vedere come si chiama con batteria in studio di episcopo ah questa è via tramvia ora fai vedere Nicola Caporusso revisione centro ruote service è un guagnone veramente inculprendente dobbiamo dare atto a quel guagnone se state da ferro ecco qua questo è Ucanjid buonasera a tutti si può no? vedete vedete la la professionalità vedete buonasera Nicola siamo venuti per farti una una bella sponsorizzazione a livello di amicizia vedete gli egici che una cosa ci volete una revisione giusta cameraman andove ci volete una revisione giusta e con il capitolo russo ai da venire vedete parli e la veste grazie